Amici di Tele1, ci troviamo quest'oggi dinanzi al santuario Santa Maria de Nives di Schiavonea, borgo marinario e turistico di Corigliano Rossano, in gradita compagnia di Padre Francesco Anzalone, parroco dell'omonima comunità parrocchiale di Schiavonea, che ringraziamo ancora una volta per aver accolto il nostro invito. Padre Francesco, una figura carismatica, non solo spirituale mi si consenta, ma anche e soprattutto un punto di riferimento sociale, aggregativo, umano per tutta la comunità. E rivolgiamo proprio una domanda a Padre Francesco, è attivo qui, presso la vostra comunità, presso la parrocchia, un importantissimo servizio di utilità sociale che coniuga la solidarietà anche con quelle appunto che sono con le esigenze delle famiglie. Se può spiegarci nel dettaglio di cosa si tratta. Bene, innanzitutto ringrazio per questo momento di attenzione, perché lo considero comunque non solo un momento di attenzione per quanto riguarda la realtà di questo punto del santuario, ma è un momento di attenzione a tutta quanta questa nostra realtà, questa nostra schiavonea, questa terra così bella, ma anche così ricca di tante urgenze, tante urgenze e tante povertà. Noi abbiamo cercato e stiamo cercando ancora, sempre in sinergia con la Caritas Diocesana, con i servizi diocesani, in dialogo con le istituzioni del Comune, con i servizi sociali, di essere attenti a tutte le necessità del territorio. Ovviamente questo territorio di schiavonea è un territorio che presenta dei chiaroscuri, ecco, delle urgenze particolari d'inverno. Adesso siamo nel periodo che va verso l'estate, per cui abbiamo avuto un forte momento di emergenza a partire dallo scorso mese di novembre, quando c'è stata quell'alluvione e tanti fratelli nostri sono stati sorpresi a dormire sul lungomare da quella terribile alluvione e la protezione civile ce li ha segnalati e li ha portati qui. C'è stato il bisogno di trovare strutture adeguate dove potessero alloggiare. lei mi capisce, con tutta la situazione Covid, l'emergenza Covid, quest'anno è stato ancora tutto molto più difficile. C'era bisogno di coperte, c'era bisogno di indumenti. Devo dire la verità, c'è tanta partecipazione e tante persone. Colgo l'occasione per ringraziare la mia comunità di schiavonea, non solo schiavonea, ma da Corigliano Paese, da Corigliano Scalo. Devo dire e sottolineo come il cuore di tante persone è attento nel portare qui presso questo portico tantissimi indumenti, abbigliamento che servono per assistere questi nostri fratelli. Per cui diventa un punto importante, oltre la mensa, il servizio mensa che già cerchiamo di migliorare, migliorare ma che però per l'emergenza Covid ancora funziona così a modo di trasporto. Insomma, ancora stiamo aspettando che ci diano l'ok per poter riprendere con sicurezza, in tutta sicurezza perché dobbiamo prestare attenzione anche e soprattutto anche a questo. E poi c'è la Caritas parrocchiale che è impegnata a servire tantissime famiglie e la situazione dell'emergenza Covid ha aumentato la povertà, ha aumentato la richiesta e spesse volte ci troviamo un poco in affanno. Però io approfitto per l'occasione per fare un ulteriore appello. Questo nostro centro è pronto per accogliere la carità, l'attenzione verso tanti fratelli e sorelle nostre che bussano verso questa nostra comunità e per servire questo territorio.